Due settimane fa, eBay, uno dei colossi finanziari della rete, ha speso 2 miliardi e 600 milioni di dollari per comprare Skype. Una società che ne fattura solo 60 milioni all'anno. Come mai? Perché sicuramente è in corso un cambiamento epocale nelle telecom, nella telefonia, nelle telecom, quelle aziende, gli operatori telefonici, che fino a poco tempo fa facevano i loro fatturati proprio sul traffico voce. Ora sono quelle stesse telecom che in qualche modo forse stanno un po' subendo l'avvento degli operatori voice over IP che con le loro telefonate gratis o quasi si stanno facendo largo nella rete. Ne parliamo a DigiTalk, sigla. Benvenuti alla prima puntata di DigiTalk, il primo talk show sull'universo digitale sul canale 817 di Sky, cioè su ETV. Oggi si parla di voice over IP e lo facciamo con i protagonisti più illustri o comunque chi può spiegarci davvero che cosa sta succedendo. E quindi in studio oggi abbiamo Stefano Quintarelli, Presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider, Giuseppe Franceschelli, rappresentante di Infotel, Enrique Lebian, amministratore delegato di Parla.it e Andrea Galli, amministratore delegato di MessageNet. Ecco, allora il ruolo delle telecom è cambiato, ma sta cambiando anche il ruolo degli Internet Provider perché la voce si trasforma in dati. E allora volevo chiedere a Stefano Quintarelli che cosa sta succedendo, come cambia il ruolo degli Internet Provider nell'epoca, nell'era del voice over IP? Ma direi che il ruolo degli Internet Provider non cambia più che tanto, cambia il ruolo delle telecom. La digitalizzazione della voce è un fenomeno che è cresciuto nel tempo. Prima i telecom operator, quindi in Italia Telecom Italia, la società come Wind, così, tenevano per loro questo business. Oggi il controllo si sta spostando nelle mani degli utenti. È un po' come la posta elettronica in definitiva. All'inizio i sistemi di posta elettronica erano centralizzati e poi via via, con i server delle aziende, con i server personali, il servizio di posta elettronica si è decentrato ed è entrato sempre di più nel controllo dell'utente. Questo stesso fenomeno sta accadendo anche per la telefonia. Da un fenomeno centralizzato, gestito dall'operatore telefonico in modo centralizzato, assolutamente controllato, sta spostandosi lentamente nelle mani degli utenti. Questo è quello che sta accadendo, grazie a voi Soveree IP. Un servizio che prima coincideva con la rete di telecomunicazioni, oggi viene trasportato su una rete di dati, per cui si divide in due. Prima la telefonata si pagava e pagando la telefonata si remunerava la rete, oggi si remunera l'accesso alla rete, il collegamento di internet con la nostra DSL, e on top, sopra questo, il servizio. E' il servizio che può essere gestito o da un operatore, molto piccolo anche, oppure direttamente da una persona, da un privato. Grazie Quintarelli, molto chiaro come al solito. Franceschelli, voi vi occupate un po' dell'infrastruttura, no? Esatto. Quindi dal lato infrastruttura che cosa cambia? Dal lato infrastruttura cambia la modalità con la quale gli operatori si collegano e si collegaranno sempre di più attraverso il meccanismo del protocollo IP. Nel nostro caso specifico Infotel è un operatore nato con l'idea di affrontare il mondo internet come nicchia del mondo infrastrutturale dei carrier, cioè la possibilità data ai carrier di potersi collegare in modo più semplice, più veloce, più performante, potendo usufruire di terminazioni telefoniche in tempi molto rapidi, anche a periodi molto stretti, e quindi poter accumulare una serie di offerte da parte del mercato e poterlo rivendere verso la periferia ai propri utenti domestici o aziendali. Allora, di fatto noi stiamo parlando di rete, quindi stiamo parlando anche di rete in senso infrastrutturale, e quindi di questioni piuttosto tecniche. Di fatto, appunto, quello che poi interessa all'utente, uno degli argomenti che vorrei in qualche modo sviscerare, è cosa succede, cosa cambia anche nelle tasche dell'utente, insomma, di chi compra servizi di telefonia, di chi consuma telefonia. Infatti con noi abbiamo anche due rappresentanti di fornitori di questo servizio. Tra l'altro due fornitori, prima parlavamo di Skype, ditemi se è corretto, ma insomma, fornitori azzarderei dire puri, nel senso che comunque voi entrambi, se non sbaglio, avete servizi che si appoggiano sul protocollo SIP, corretto? No. No, benissimo. Allora ci spieghi come vai, Lebian. Noi abbiamo preferito prendere il protocollo H323, che secondo noi permette ancora oggi di offrire una qualità simile al PSTN, perché secondo noi, e questa è la nostra strategia, è di dire che tutti gli agenti normali devono usufruire del vantaggio della VoIP. e per fare questo pensiamo che soluzioni con un PC è interessante, ma solo per una minoranza. E noi stiamo proponendo alla gente normale di usare il semplice telefono. Ecco, perché il protocollo H323 consuma meno? Quindi, in senso di termini di banda, come mai? No, noi pensiamo che per far sì che tutti possano usufruire di prezzi molto più bassi delle tariffe di Telecom Italia, per esempio. Questo è abbastanza comune nel mondo del voice over IP, no? Sì, 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 ma oggi dobbiamo dire che solo una piccola minoranza ha imparato che esiste. Che esiste. E secondo noi, la VoIP deve essere percepita come il PSTN, come la rete classica, e per ottenere questo risultato è importante che la qualità sia simile alla qualità della voce classica. e perciò abbiamo scelto H323. Molto più spesso, tra l'altro, è addirittura maggiore, no? Nella maggior parte dei casi. Questo anche per far capire che magari non conosce a fondo, non ha mai provato il voice over IP, insomma, ho solo usato telefonate, telefonia tradizionale. Ecco, Andrea Galli, voi invece usate SIP, vero? Mi dica di sì. Noi utilizziamo SIP, assolutamente sì. E dal punto di vista della qualità, secondo noi, in realtà... Che non è il vecchio operatore, mi perdoni se lo inseriscono. No, 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 significa session initiative protocol. SIP, è un protocollo standard che si utilizza su internet per iniziare delle sessioni. Benissimo. In questo caso vocali? In questo caso vocali si inizia una conversazione con qualcuno che è un normale interlocutore telefonico. Quello che facciamo noi è di offrire un servizio che è un servizio di messaggistica integrato. Offriamo qualcosa di più della telefonia su IP, perché il voice over IP non è solo voice, è service over IP, è un qualcosa in più. Noi, per esempio, facciamo SMS, fax e voce in un prodotto unico che diamo ai nostri utenti. Questo viene fatto per quanto riguarda la voce con il protocollo SIP e per quanto riguarda il fax con altri tipi di protocolli. Dal punto di vista della qualità, secondo noi, questo è dipendente più che altro dalla rete di accesso che si utilizza, perché una delle cose belle che permette di fare il voice over IP è di trasportare il proprio accesso telefonico dovunque vi sia un collegamento a internet. Quindi, ad esempio... Eccoci qua, perché questo poi è quello che alla fine interessa, no? Message net permette di avere un accesso a voice over IP che è sempre lo stesso, che ha un numero telefonico di message net che è utilizzabile, sia che io mi trovi a casa mia, sia che mi trovi, che so, a New York in un albergo, in un aeroporto, in un hotspot Wi-Fi, oppure in un qualunque luogo dove ci sia un collegamento alla rete. E qui però volevo chiedere a Quintarelli, insomma, in questo caso però l'infrastruttura possiamo dire che è un po' una tecnologia un po' trasparente, no? Cioè quello che interessa agli utenti ed è quello che poi vorremmo comunicare con questa puntata di DigiTalk, è un po' che cosa cambia per loro, magari passando anche attraverso i nostri discorsi. Quindi, insomma, cosa succede? Come è cambiato ad esempio il modello di business? Allora, molti anni fa, diciamo, prima che ci fosse l'avvento di diffusione di massa di internet, c'erano dei servizi di posta elettronica estremamente costosi. Col passare del tempo, il servizio di posta elettronica, uso questa analogia perché è abbastanza calzante, il servizio di posta elettronica ha visto ridursi di costo ed è diventato sostanzialmente un accessorio dell'accesso di SL. Il servizio in sé tende a ridursi di costo. Quello a cui noi stiamo assistendo oggi nel mondo della telefonia, del servizio di traffico vocale fatto sulla rete IP, è che le telefonate, le comunicazioni fatte all'interno dell'ambiente, dato che il costo di accesso alla rete tipicamente è flat, tipicamente è una tariffa unica indipendente dal tempo di utilizzo, questo è un prerequisito che è necessario per usare la rete, il costo del servizio a questo punto è praticamente trascurabile, è equivalente al gestire una chiamata a un costo computazionale che è analogo a quello di gestire un messaggio di posta elettronica. Pertanto le comunicazioni sulla rete hanno lo stesso costo di un messaggio di posta elettronica, cioè tipicamente zero. Quasi tutti gli operatori VoIP consentono ai propri abbonati di telefonare all'interno del loro bacino gratuitamente. Solo quando questi telefonano verso la rete tradizionale, verso la rete PSTN, in quel caso si ha un costo di uscita, di breakout, che viene addebitato all'utente. Quindi che cosa cambia l'utente? Che si chiama i suoi amici, i suoi referenti che usano lo stesso servizio di VoIP, tipicamente non pagheranno le comunicazioni. Quando andranno verso la vecchia rete telefonica, tipicamente pagheranno le comunicazioni. Vorrei aggiungere una cosa, la cosa importante a questo punto è che non si creino delle isole, perché il rischio è che si creino delle isole dove per un effetto benefico, perverso, per il famoso effetto rete, un operatore tende a diventare più grande degli altri e a non consentire le conversazioni verso gli altri operatori. Quindi l'interoperabilità tra operatori diventa un fatto fondamentale. Ed esiste una forma di regolamentazione, di autoregolamentazione oppure è ancora un po' tutto da definirsi? Allora, nell'ambito di AIP, AIP è un'associazione che racchiude 45 operatori che circa fatturano quasi 2 miliardi di euro e hanno fatto investimenti negli ultimi 5 anni per circa 1 miliardo 400 milioni di euro. Nell'ambito di AIP e insieme ad Asso Provider, che è un'altra associazione di internet provider italiani, stiamo promuovendo un concetto che è quello di un sistema di interscambio neutrale delle comunicazioni VoIP in modo da garantire che un abbonato di MessageNet e un abbonato di Parla.it o di tutti gli altri soci che oggi non sono presenti, che va bene, mi dispiace non poterle citare, le comunicazioni, fin tanto che restano su internet, indipendentemente dall'operatore, avvengano alle stesse condizioni tariffarie e quindi sostanzialmente nulla. Lebian, è vero questo? Cosa sta succedendo? State operando in questa direzione? Sicuramente noi appoggiamo le contribuzioni molto importanti dell'AIP per far sì che il mercato italiano che non è ancora abbastanza concorrenziale ovviamente si apre verso l'interoperabilità. Si apre quindi verso l'interoperabilità? Si apre, è una battaglia, non è facile. Ecco, ma allora, per far capire, le telefonate tra computer, bene, quelle sono gratuite, ma quelle lo erano già prima in qualche modo, no? Ci sono sempre stati software che hanno permesso la comunicazione. Ora la novità sta non solo nella grande diffusione, beh, Skype ha rappresentato qualcosa, ma voglio dire, la novità sta proprio nel collegamento con la rete tradizionale PSTN e anche con la diffusione, per non parlare dell'influenza del tuo Wi-Fi, quindi la possibilità anche di parlare in mobilità. E questo è un altro... L'always on. L'always on. Il fatto di essere perennemente connessi alla rete e quindi di poter ricevere chiamate, perché prima bisognava mettersi d'accordo. Io mi collego adesso, tutti i colleghi adesso, ci colleghiamo a quell'ora e a quel punto possiamo parlare, è troppo macchinoso. Il fatto di essere perennemente collegati, quindi molta attenzione al tipo di abbonamento che uno deve fare alla rete. Ed è importante quindi che sia always on, perché altrimenti, per esempio, non suona il telefono, perché sono disconnessi. Non suona il telefono, oppure pago 50 euro al giorno di canone di connessione, solo per stare connessi. Questo è il fattore fondamentale che è cambiato. La diffusione dell'always on. È una rivoluzione. E aggiungerei che anche, ovviamente, il VoIP è il matrimonio felice tra la telefonia e il web e questo permette anche di introdurre nuovi servizi, come per esempio la possibilità di gestire la vostra telefonia tramite il web. Potete semplicemente ascoltare i vostri messaggi vocali, vedere il traffico in tempo reale, digitare, inserire il suo numero di cellulare sul web per inoltrare le chiamate. E questo è un nuovo mondo di servizi. Apre a nuovi servizi, tra l'altro, che oggi si stanno un po' distinguendo tra quelli a PC acceso, a PC spento, no? Ad esempio Skype, Skype, insomma, per dirlo più correttamente, ha difficoltà. Cioè, non ha ancora, siccome non utilizza un protocollo condiviso, insomma, aperto, ma proprietario, corretto, e quindi, ad esempio, ha diffuso, vende anche telefoni, cornette, per farlo assomigliare anche nella modalità di utilizzo al telefono, per far dire pronto e non mi senti, che però funziona a computer acceso. Mentre magari invece chi si basa su protocolli, ma anche voi fornite apparecchietti, devices... Noi siamo convinti che solo un quarto dell'umanità chiamerà usando un PC, non è un modo naturale per parlare. E perciò abbiamo lavorato tanto per offrire una soluzione che si installa in tre minuti e che funziona con un telefono normale. Per interoperare con gente che ha un PC e secondo me questa è la rivoluzione perché siamo passati dall'era della scarsità a un'era d'abbondanza di comunicazione sempre più permanente ma non dimentichiamo che la gente non ha tempo non vuole... La gente deve usare un apparecchio telefonico e la tecnologia deve diventare trasparente. È facile, una bolletta che si capisce alla fine. La bolletta è un altro tema importante. Francesca naviga sempre nei siti internet mentre noi parliamo. Francesca, hai trovato qualche dato interessante per esempio su Skype? Certo, abbiamo visto che all'inizio di settembre Aspetta un secondo, facciamo un breve break e nemmeno dici dopo. A più tardi. Bentornati a DigiTalk, grazie di essere ancora con noi. Il DigiTalk è il primo talk show sull'universo digitale. Il mondo digitale ormai fa parte della vita di tutti. Noi parliamo in tutti gli aspetti anche in quelli di Francesca che digita sempre cercando informazioni su internet per noi. Cos'hai trovato Francesca? Abbiamo trovato alcuni dati su Skype. È davvero sorprendente la diffusione di questo servizio. All'inizio di settembre pensa contava 45 milioni di utenti in tutto il mondo e ogni giorno ne acquisisce 150 mila in più. 150 mila in più. Inoltre abbiamo anche che secondo la società di analisi iSupply entro l'anno 2010 la diffusione e gli utenti residenziali dei Voice over IP aumenterà e saranno addirittura 197 milioni. Grazie. Grazie Francesca sempre molto utile. Sono numeri impressionanti. Le telecom che fine faranno? Non so Quintarelli o Franceschelli per chiederlo a voi sarebbe da chiedere a tutti. Le telecom tradizionali. Chiediamolo al doppio cappello. Certo chiediamolo al Lebian di Parla e Franceschelli. Come ha detto un famoso francese la migliore difesa è l'attacco e significa che ovviamente noi siamo un incubante un operatore storico in Francia ma anche in Polonia in realtà e in realtà abbiamo deciso di diventare il leader in Europa e lo siamo davvero perché abbiamo stiamo offrando VoIP in Spagna Francia Inghilterra Olanda Polonia Italia e noi pensiamo che questo è l'atteggiamento di un operatore che ha molto da portare perché va bene la tecnologia c'è per i manettoni eccetera ma la sfida ripeto è di portare il VoIP facile a tutti ovviamente per far sì che diventa quasi gratuito di chiamare dappertutto ovviamente nello stesso tempo la gente capisce che c'è bisogno di pagare un po' per avere un servizio di qualità e questo esisterà sempre se prendiamo l'esempio di Skype non è un servizio gratuito gratuito tra due contanti Skype ma costa per chiamare costa meno però mediamente rispetto alle tariffe delle tele non sempre di seguito internet per chiamare perciò ok ma in ogni modo la qualità e il servizio sono una parte importante dell'esperienza tra l'altro la Commissione Europea sembra privilegiare il modello francese quindi senza un po' di deregolamentazione cioè non è proprio tende a non regolamentare il settore come l'ha detto signor Quintarelli è ovvio che il VoIP è una rivoluzione questo è ovvio e allora operatori che pensano proteggere la rendita questo non regge semplicemente non regge infatti anche l'economist in copertina ha titolato come internet ha ucciso il business della telefonia Andrea Galli cosa stava dicendo stavo dicendo questo che gli elementi veri che permettono di risparmiare anche sulla telefonia tradizionale sono più di uno il primo è che il servizio viene diviso da quello che è la rete di accesso per cui tutti quelli che hanno un collegamento a internet possono automaticamente scegliere tra una miriade di fornitori che quindi tenderanno a farsi molta più concorrenza rispetto a un singolo fornitore che è il possessore della rete questo è il vero motivo per cui tutte le telefonate anche verso la rete tradizionale fatte con il voice over IP costano di meno rispetto a quelle erogate sulla rete tradizionale però prima Quintarelli diceva che non è vero che costano di meno no 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 assolutamente ho visto un no pensavo di aver capito niente e non solo costano di meno non solo i terminali che permettono di fare questo sono dei terminali che dove si usano standard aperti costano poco o nulla perché se si tratta di software il costo di distribuzione è nullo possono essere scaricati via web e ci sono software gratuiti che permettono di parlare sia in SIP che in H323 agevolmente quindi due protocolli scusate mi devo sempre sono due protocolli diversi due protocolli diversi ma entrambi esattamente ma entrambi aperti e standard per quanto riguarda invece l'hardware ovvero i telefoni tradizionali che però utilizzano questa tecnologia per telefonare essendo proprio lo standard aperto si ha una miriade di produttori che possono realizzare questo hardware e quindi tra una miriade di produttori esattamente come per i telefoni cellulari è possibile trovare dei terminali che costano pochissimo quindi gli elementi che servono per telefonare su P e spendere di meno sono l'accesso ad internet i terminali e il costo del servizio sul costo del servizio c'è una concorrenza micidiale bene però per esempio ha nominato i cellulari per un altro motivo ma invece i cellulari sono già un problemino un po' più ampio perché l'interconnessione verso la rete cellulare quella già costa un po' di più si risparmia lo stesso anche in quel caso Pintarelli? no no sfortunatamente no tutti speriamo abbiamo sperato di poter portare la voice over IP anche sui cellulari sulla parte di comunicazione dati purtroppo la banda passante sia in GPRS che in UMTS ma soprattutto la latenza cioè il ritardo il tempo che ci mette un pacchetto una volta che entra nella rete cellulare uscire dall'altra parte è tale che di fatto lo rende non utilizzabile per usare la voice over IP la cosa cambierà con la diffusione del wifi fra molto poco ci saranno degli annunci a questo riguardo il wifi diventerà una realtà molto diffusa anche in Italia come già negli Stati Uniti parleremo di Gitor con i prossimi giorni e in alcuni punti in alcuni luoghi abbastanza diffusi sarà possibile usare un terminale wifi per fare telefonate VoIP e quindi avere non proprio in mobilità ma un uso nomade della VoIP a bassissimo costo anche non necessariamente collegato a un computer o collegato a una linea DSL quindi costeranno meno anche loro a proposito Franceschelli a proposito di infrastruttura tra l'altro l'infrastruttura delle reti GSM i costi originali stanno per essere anche un po' ammortizzati e quindi insomma probabilmente cominceranno a costare ancora di meno C'è un programma da parte dell'autority di una diminuzione graduale del costo di interconnessione cioè il costo che l'operatore deve pagare nel momento che muove traffico telefonico di terminazione mobile e che questo andrà a scendere c'è stata una manovra tarifaria che comunque nota anche agli utilizzatori a settembre ce ne saranno una serie di altre che porteranno a livellare quello che è il costo che l'utente deve pagare per parlare attraverso una rete fissa su una rete mobile quindi per chiamare praticamente un numero cellulare dalla rete fissa ricollegandomi al tema forse che aveva analizzato prima Stefano Quintarelli sul tema dell'interoperabilità sicuramente nel nostro caso come Infotel siamo specializzati proprio nella interoperabilità a monte non a valle cioè noi sostanzialmente abbiamo e mettiamo in condizione gli operatori tradizionali che utilizzano la tecnologia tradizionale a poter scambiare il loro traffico attraverso il protocollo IP e questa è una cosa molto importante perché rende molto più flessibile e dinamico la negoziazione delle tariffe perché tutti gli operatori a livello di scambio traffico all'ingrosso comprano e vendono traffico a delle tariffe all'ingrosso che via via possono scendere nel momento in cui esiste una facilità di negoziazione delle tariffe stesse collegato a questo concetto nasce il cosa che ad esempio noi quotidianamente gestiamo il borsino delle tariffe telefoniche che non è altro che una una banca dati dove gli operatori propongono l'acquisto di traffico a un certo prezzo e lo rivendono a un altro però con una dinamicità estremamente elevata un tempo un operatore per collegarsi ad un altro operatore utilizzava e utilizza ancora adesso collegamenti dedicati quindi che sono lunghi come realizzazione come negoziazione contrattuale il collegamento invece in VoIP permette una rapidissima interconnessione tra operatori e quindi una possibilità di poter dinamicamente negoziare tariffe sempre più convenienti che si ribaltano poi nell'utente finale quindi alla fine è l'utente finale che ci interessa a proposito di questo sembra che il VoIP sta riaprendo anche verso la possibilità di insomma sta riaprendo verso il video a meno che avete pronte delle offerte come sta facendo di fatto Skype di affiancare il video all'audio sicuramente Franselecom sta lanciando in tutta l'Europa Livecom che è un comunicatore un softphone ma che permette anche di fare video chiamate gratuite e noi stiamo preparando il lancio in Italia ecco e Messaginetti invece? Messaginetti al momento non ha un'offerta per la videoconferenza o per la videochiamata ma è un qualcosa che sicuramente abbiamo preso in considerazione il bello di usare tecnologie standard standard aperti standard ben documentati e di non gestire un bacino chiuso su protocolli proprietari è che è facile raggiungere funzionalità e questo va a tutto vantaggio grazie alla concorrenza degli utenti lei prima ci ha dato una domanda che fine fanno le telecoms? stiamo facendo un fatto interessante prima internet era infilato nel filo telefonico oggi avviene il contrario oggi il filo telefonico si infila su internet il costo del traffico grazie anche a questo fatto che ricordava prima Franceschelli della negoziazione continua delle tariffe continuerà a diminuire il costo del canone probabilmente tenderà ad aumentare è noto che secondo uno studio del professor Frova a partire del 2003 Telecom Italia guadagna più da canone che non da scatti quindi il costo degli scatti tende a diminuire il costo del canone tenderà ad aumentare certamente la somma di questi due fattori probabilmente anzi molto probabilmente è in riduzione e allora i telecom operator si trovano davanti alla sfida di dover integrare i ricavi che vanno a perdere con nuovi servizi e nuove funzionalità il video il cinema la televisione le partite e quant'altro ma l'importante è che interoperino perché un utente di un operatore debba poter vedere le partite dell'altro altrimenti è come se avessimo delle televisioni una per guardare Canale 5 e una per guardare la Rai e questo diventa naturalmente un problema anche in termini di raccolta pubblicitaria di pluralismo democratico e a proposito di questo Skype come si configura? io ho fatto una previsione abbastanza fosca per Skype io credo che Skype nel momento in cui qualche regolatore imporrà Skype di interoperare il vantaggio intrinseco di Skype ovvero che per parlare con un utente Skype bisogna essere a bordo della stessa piattaforma e quindi di fatto guadagnare da questo effetto rete Skype guadagna da questo effetto rete nel momento in cui verrà costretto ad interoperare questo vantaggio non lo avrà più non lo avrà più e qui verrà costretto ad interoperare è probabile io me lo auguro per il bene della concorrenza perché a quel punto dovrà competere su un altro piano sulla qualità del software sulla qualità del servizio sui servizi più ricchi sul fax sull'integrazione con le centrali segreterie telefoniche sul video ma non solo ci possono essere tante cose adesso senza andare a raccontare i piani industriali di nessuno però il futuro ci riserva tante sorprese molto belle poi i fondatori di Skype e gli ex proprietari insomma sono stati gli stessi di Kazza quindi erano pronti alla condivisione in qualche modo nella rete ma sa che anche Bill Gates prima era contrario ai brevetti certo ma anche ad internet ma anche ad internet era contrario un po' tutti abbiamo visto altri fenomeni di questo tipo bene allora cerchiamo di capire di chiudere perché il tempo ormai siamo riduti sono rimasti pochi secondi la trasformazione è in corso le telecom Quintarelli dice è molto importante che non si formino isole che tutti interoperino Skype in questo momento è un'isola corretto enorme però è l'Australia abbiamo visto anche quanto è stata pagata France Telecom con Parla.it invece è un po' ha messo le mani avanti nel senso che si è affacciata in modo deciso verso il voice over IP MessageNet una realtà che funziona anche loro basati su protocolli aperti quindi in linea con quello che dice Quintarelli permettetemi di dare queste conclusioni e Franceschelli con Infotella con l'infrastruttura con l'infrastruttura e con l'evoluzione della infrastruttura che comunque porteremo avanti anche verso i servizi video quindi triple play quindi triple play certo tra l'altro anche di questo ne parleremo nelle prossime puntate via digital noi abbiamo fondato una società nuova che si chiama triple tv che si sta dedicando proprio allo sviluppo dell'infrastruttura e alla convergenza del video dei dati della voce e certo anche perché su internet quindi la convergenza tra gli operatori telefonici e i broadcaster televisivi vi ringrazio questo tema dovrebbe essere bisogno di più tempo perché insomma bisogna capire di più e poi è un momento importante in cui stanno cambiando le cose ma lo faremo sicuramente nelle prossime puntate tra l'altro domani la puntata sarà dedicata al peer-to-peer e alla pirateria ai pirati insomma a quello che accade a proposito di diritto d'autore proprietà intellettuale eccetera io ringrazio i miei ospiti grazie quindi Quintarelli grazie Franceschelli grazie Lebiane grazie Galli di essere stati con noi grazie anche a voi di essere stati con noi fino adesso ogni giorno DigiTalk vi accompagna in questo viaggio attraverso il digitale tra l'altro siamo sempre molto aggiornati e quindi parliamo dei temi che contano dei temi insomma che in qualche modo rientrano nelle nostre anche economie perché no vedi Skype vedi le telefonate vedi gli operatori telefonici nuovi di questo mercato quindi ogni giorno alle 23 sul canale 817 di Skype replica ogni mattina alle 8.25 grazie anche a Francesca per le sue pronte navigazioni io vi saluto e ci rivediamo domani sempre alle 23 sempre su ETV grazie e arrivederci buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti